Seidi Syedeeb la nel primo momento. Spenderemo che Kona… Tato con il vamaggio e il vado per il Valle Tablo di Simba Name. Buonasera! Un giorno vuol dire la cosa che abbiamo, abbiamo un progetto e siamo, ci sono l'avere guadaglia e ci sono fatti in coca. la solita in gas crisi sulle scuole la quale conciuga con ele nel scisa ramadana e che ciò qui c'è in chiesa con Nani con le catacqua che ciò qua sia sante Nani! Gian Raffael Boko! Gian Raffael Boko! Gian Raffael Boko! Ania di che si fa un po' la quanta Pica di cupida per il lago la Maggi Maggi Pira che non cambiamo avuti con il scisa ramadana e che ciò Escamia Ikatemea con il chilio P neonatana e che l'alero Uygi Perla